È qualche giorno che è uscito l'Ava di Acustica Audio ed ero proprio curioso di provarlo, finalmente sono riuscito a scaricare la trial e lo proveremo subito assieme. Il concetto che è dietro questo plugin è veramente interessante, promette di trasformare un qualunque tipo di microfono in un altro, semplicemente emulandolo. Ovviamente per scaricare la trial dovete scaricare Aquarius, scrivere nella barra di ricerca il plugin che volete provare, a ricerca effettuata vi uscirà anche la trial di quel plugin e la potete installare da lì. Vediamo come funziona, ho queste tre tracce che fanno parte di un unico progetto, qui a sinistra è solo una voce che poi vedremo separatamente. Apriamo l'Ava, così è come si presenta. Ci sono due manopoli grandi, uno è l'input del microfono selezionato, mentre qui sulla destra abbiamo il dry wet del microfono emulato. Per fortuna l'Acustica Audio sta inserendo l'oversampling nei suoi ultimi plugin e c'è anche una funzione Echo per risparmiare la CPU. Questa funzione probabilmente introdurrà più rumore di aliasing e magari non rispettere in maniera ottimale la fase. Uno per è praticamente il plugin senza oversampling e quattro per quattro volte l'oversampling. Scendendo invece abbiamo questo comodo filtro passa alto che ci aiuterà a ottenere già in partenza un suono che sia migliore. Qui sulla destra invece vediamo che c'è la simulazione della distanza del microfono. Ad esempio se noi abbiamo registrato la voce con un microfono a condensatore per esempio, noi possiamo decidere di simulare una distanza a 30 cm, 35 cm per arrivare fino a 50 cm. Vediamo come funziona. Qui possiamo scegliere il microfono sorgente. Ce ne sono abbastanza e sono di più rispetto a quelli là emulati. Praticamente ho un rullante registrato con l'SM57, una chitarra elettrica high gain registrata sempre con uno Shure SM57 e per ultimo invece una traccia vocale registrata con l'Adiotecnica AT4050. Mentre questa in verde che magari la possiamo mettere anche qui, ho una voce registrata con un microfono MXL V69. Un microfono malvolare un po' economico che diciamo dà le prestazioni non molto eccelse. Ma iniziamo a vedere come si comporta. La chitarra, eccola qui. Mi mettiamo auto prima. Ho selezionato SM57 intorgente perché è una chitarra high gain registrata con il 57 e ho selezionato il Neumann U47 che l'avevo già provato e veramente mi piaceva su questa chitarra qui. Proviamola ad ascoltare. Prima senza effetto e poi con l'effetto. Andiamene, sulle chitarre funziona veramente bene. Si sente proprio che passa da un dinamico ad un condensatore. Mi è capitato varie volte di registrare una chitarra high gain con quegli amplificatori che ho qui e ho messo varie volte magari un 57 e l'Adiotecnica AT4050. Conosco bene la differenza tra un 57 e un microfono a condensatore e devo dire che l'Ava si comporta davvero bene. Ovviamente si può provare anche a deselezionare la sorgente. Si può usare in entrambi i modi. Si può usare sia con la sorgente selezionata come in questo caso l'SM57 o senza. Qui un po' a gusto perché in questa fase magari in una fase di premixo oppure proprio addirittura in una fase di produzione ci sa utilizzare il suono che meglio si crede. Ma proviamo anche la voce. In questo caso la voce sarà registrata con un AT4050 e vediamo cosa si può fare. Qui di Audio Tecnica c'è solo l'AT4040 che si avvicina al mio modello. Gli altri sono di fascia più bassa. Selezioniamolo. Vediamo un attimo di provare il Neumann. Il Neumann a me mi piace come sonorità. Vediamo sempre l'U-47 che mi piace molto. Anche sulla voce funziona davvero bene. Si sente che magari il Neumann riesce a essere un po' più definito sulle alte e ha un po' più d'aria. E probabilmente si sente anche che ha un po' più di corpo perché per esempio la T4050 è un microfono molto flat. Essendo molto flat mette un po' più in risalto le medie. Più che altro perché il nostro orecchio è più sensibile lì e se è tutto flat le medie tendono a risaltare un po' di più. Proviamo anche un altro microfono. Sempre il Neumann. Proviamo l'U-87. Questa cosa con l'U-87 si accentua ancora di più. Funziona questa roba qui. Proviamo anche la KG. Voglio provare la KG 414. La KG 414 mi ha un po' stupito. Non lo conoscevo come microfono. Nel senso non l'ho mai provato. Mi sono reso conto di come è bassoso. Proprio come risultato sonoro. È abbastanza scuro sulle medio-basse frequenze e sulle basse. Scalda molto la voce. Devo dire che la scalda molto la voce ma in genere scalda molto i suoni. Pensavo che fosse un po' più cristallino come i microfoni. Invece ti dà idea, questo plug-in in lava, ti dà veramente idea di come suonano alcuni microfoni. Anche per questo potrebbe essere consigliato. Poi la cosa divertente di questo microfono è che una volta che abbiamo selezionato la sorgente ne possiamo provare veramente tanti di microfoni. Da quelli un po' più cheap a quelli veramente di livello. E questo plug-in veramente potrebbe tornare utile a chiunque abbia un microfono che non sia veramente il top. E con questo plug-in sicuramente riuscirà a migliorare anche in maniera sostanziale una voce per esempio. Proviamo un'altra cosa. Io qui ho questa voce. Questa voce è stata registrata con un microfono MXL valvolare un po' cheap che non è che suonava veramente bene quel microfono. Ve lo faccio vedere. È questo qui il microfono. L'MXL V69M è un microfono valvolare che non costa molto e quello che costa secondo me potrebbe suonare anche un pochettino meglio. Ma tant'è che poi in questo caso la voce sta registrata veramente molto vicino al microfono e l'effetto prossimità di questo microfono è un po' brutto. Si ingolfa veramente la voce e non mi piace. Ma con il lava ho fatto già dei test e la voce si raddrizza veramente di tanto a livello di sound. Quindi qui in sorgente vediamo che di MXL abbiamo solo questa versione che non conosco. Comunque selezionandola e magari emulando un U47, un Neumann, ascoltiamo un attimo il risultato. Si sente proprio che mette in evidenza le medie. Perché a questa registrazione è una cosa che mancava erano delle medie intellegibili. E andando ad emulare un microfono di livello con lava il risultato è molto interessante. Proviamo anche un Ribeira, proviamo questo, l'R251. Con questa emulazione invece la voce si ingolfa veramente tanto. Alcune emulazioni secondo me vanno meglio di altre in base alla sorgente. Quindi è da vedere, molto interessante il plugin. In conclusione che dire, questo era un plugin che volevo provare. Acoustic Audio è sempre una garanzia. Caccia fuori dei plugin sempre veramente molto interessanti. Questo è un plugin che io consiglio quantomeno di provare. E secondo me ad alcuni potrebbe servire questa emulazione, mentre ad altri non. Il prossimo plugin che voglio provare di Acoustic Audio è il Suanda. Quindi non perdete il prossimo video. Perché secondo me quel plugin ha veramente qualcosa da raccontare. Grazie. Grazie.